Questa è la prima edizione dello Stargirl e purtroppo queste fucsie hanno preso una brutta batosta un po' nel terzo e quarto periodo. C'è una giustificazione? Come cercate di giustificarvi un po' di questa prestazione? Secondo me Pisto ha smesso di dare l'impronta e mettere tutto il suo entusiasmo, si è un po' seduto, si è piaciuto, ha guardato il piazzale, si è emozionato per il David e la nostra partita è finita. E Pistoletti come risponde? Ha tutto corretto, ha detto la verità, quando uno dice la verità bisogna sempre stargli vicino, io comunque dico che l'approccio al terzo e quarto per parlare un po' di parlacanestro è stato imbarazzante, però va bene così, è la prima esperienza, faremo meglio il prossimo anno se veniamo riconfermati, abbiamo fatto una promessa tra di noi di venire qui agguerriti, ora pagheremo chi di dovere per la riconferma della panchina, giusto Lore? Prenderemo i cardini giusti perché vogliamo avere una rivincita e provare a dimostrare che quel terzo e quarto non è stato veritiero.